Una commedia all'italiana, un'occasione di vero gioco teatrale in cui la magia della leggerezza viene riscoperta assieme al piacere del dialetto, tra una risata e una canzone, per due ore di sano divertimento. E caro papà, pièce scritta e interpretata dal grande mattatore catanese Gilberto Idonia, che oggi vede scena il figlio Alessandro. Lo spettacolo è in programma venerdì 10 marzo al Teatro Golden di Palermo, nell'ambito del primo festival del Teatro Popolare, organizzato dall'Associazione Gags, e sabato 11 e domenica 12 marzo al Teatro Martoglio di Belpasso, all'interno della stagione della Brigata d'Arte Sicilia Teatro. Ad accompagnare Alessandro Idonia sulla scena, che firma anche la regia del lavoro, c'è un cast ad alto tasso di comicità, per una commedia che si potrebbe definire un treno in piena corsa. Un testo che riproponendo e intersecando verità ed inganni, procede in un susseguirsi di risate e non lascia il respiro allo spettatore, che dovrà attendere fino alla fine la risoluzione di un grande blef. Uno spettacolo all'insegna del divertimento, dove non c'è un attimo di respiro fra una gag e l'altra, fra un incidente e un altro, ovviamente non vi racconto la storia, solo vi dico che qualcuno si prende la paternità di una figlia che non c'è. All'interno di questa commedia ritrovi tutti quei personaggi che un po' sono lo specchio della società, ahimè anche di oggi, pur essendo un testo che è stato scritto abbastanza anni fa, comunque li ritrovi tutti oggi, come se non fosse cambiato nulla. Diciamo sia nel bene che nel male. Poi per fortuna la commedia, in quanto commedia, ha un lieto fine e quindi anche i personaggi che all'apparenza sembrano negativi, poi alla fine sono anche loro positivi. In questa stanza c'è un bordello!